Le piante grasse, la collocazione perfetta in casa. Le piante grasse sono ideali per chi desidera avvicinarsi al mondo del giardinaggio senza troppe complicazioni. Non richiedono molte cure e sono resistenti a diverse condizioni ambientali. Tuttavia, la loro posizione in casa può fare una grande differenza per la loro crescita e salute. Dove collocare le piante grasse in casa? Se vuoi iniziare a prenderti cura delle piante e non sai da dove cominciare, Le piante grasse sono la scelta ideale. Queste piante non richiedono molte cure e si adattano facilmente a diverse condizioni climatiche. Tuttavia, per garantire loro una lunga vita, è importante posizionarle correttamente. Le piante grasse amano la luce e il calore, ma alcune tollerano meno il freddo. Non tutte le piante grasse provengono dalle stesse zone. Alcune sono originarie di deserti, altre di montagne o foreste equatoriali. Quindi, è essenziale capire l'origine della tua pianta per offrirle le condizioni ideali. La posizione ideale per le piante grasse. In generale, le piante grasse provengono da zone soleggiate, quindi è importante non collocarle in luoghi umidi o poco illuminati. La posizione migliore sarebbe in giardino o sul balcone, dove possono godere di luce e calore durante l'estate. Tuttavia, durante i giorni più caldi, è consigliabile offrire loro qualche ora di ombra per evitare che le foglie si scottino. Se tieni le piante grasse in casa, evita le stanze umide come il bagno e tienile lontane da fonti di calore o correnti d'aria. Durante l'inverno, proteggile da pioggia e vento. Puoi spostarle all'interno, magari sul davanzale di una finestra ben illuminata. È importante assicurarsi che il terreno non sia mai troppo bagnato per evitare ristagni d'acqua che potrebbero danneggiare le radici. Temperature ideali per le piante grasse Le piante grasse crescono al meglio a temperature comprese tra i 25 e i 32 gradi. Superati i 34 gradi, la loro crescita potrebbe rallentare. Queste piante possono anche resistere al freddo, ma devono essere in buona salute. Per aiutarle a superare l'inverno, puoi utilizzare concimi specifici e assicurarti che il terreno rimanga asciutto. Alcune piante grasse resistenti al freddo Se hai un giardino e desideri coltivare piante grasse, ci sono alcune varietà che resistono bene alle basse temperature, come la rebutia, il sedum e la sulcorebutia. Queste piante possono rimanere all'aperto anche durante l'inverno, purché siano protette dalle intemperie con un telo. Seguendo questi semplici consigli, potrai godere della bellezza delle piante grasse per molti anni, arricchendo il tuo spazio verde con queste meravigliose e resistenti piante.